Benvenuti in questo nostro corso sull'intelligenza artificiale. Questo percorso è il frutto di una collaborazione unica tra la mente umana e la tecnologia, rappresentata da ChatGPT. Giacomo Coccolini ha lavorato insieme a ChatGPT per curare e creare un contenuto che sia informativo, accessibile e stimolante. Questo corso è pensato per guidarvi attraverso i concetti fondamentali dell'intelligenza artificiale, le sue applicazioni e le implicazioni etiche, preparandovi a navigare e contribuire a questo campo in rapida evoluzione. Buona esplorazione! Oggi guardiamo il futuro di queste tecnologie, tanto promettenti quanto complesse. Stiamo entrando in un'era in cui l'intelligenza artificiale trasformerà ogni industria, dalla medicina alla manifattura, dall'educazione all'agricoltura. La prossima ondata di innovazioni potrebbe portare intelligenze artificiali sempre più sofisticate, capaci di compiere compiti complessi con precisione e velocità inimmaginabili per la mente umana. Pensate al suo impiego nella medicina personalizzata, dove trattamenti e farmaci sono adattati geneticamente a ogni individuo. O all'uso di sistemi intelligenti per gestire il traffico urbano, che riducono l'inquinamento e migliorano la qualità della vita. Ma con grandi potenzialità arrivano grandi sfide. Dovremo affrontare questioni di sicurezza, etica e governance. Come possiamo assicurare che l'intelligenza artificiale sia equa e non aggravi le disuguaglianze sociali? Come manteniamo il controllo su sistemi che possono apprendere e agire autonomamente? Nel nostro prossimo incontro, parleremo delle carriere in questo ambito, un campo in rapida espansione che offre opportunità entusiasmanti per chi è pronto ad accoglierle.